Non dire Padre se ogni giorno non ti comporti da figlio. Non dire Nostro se vivi isolato nel tuo egoismo. Non dire che sei nei cieli se pensi solo alle cose terrene. Non dire sia santificato il tuo nome se non lo onori. Non dire Venga il tuo regno se lo confondi con il successo materiale. Non dire sia fatta la tua volontà se non l'accetti quando è dolorosa. Non dire Dacci oggi il nostro pane se non ti preoccupi della gente che ha fame, è senza cultura, è senza mezzi per vivere. Non dire Perdona i nostri debiti se conservi un rancore verso tuo fratello. Non dire Non lasciarci cadere nella tentazione se hai intenzione di continuare a peccare. Non dire Liberaci dal male se non prendi posizione contro il male. Non dire Amen se non prendi sul serio le parole del Padre Nostro. Non dire사� di partire nel nostro caso. Grazie a tutti.